e non è facile, poi io devo dire per loro ma anche per tutti gli altri i protagonisti che saliranno su questa pedale non è cosa facile perché sulla moquette non si balla in modo corretto però è solo una rappresentazione ovviamente di tutto quello che ci sarà da fare questa sera con tutte le scuole di ballo, con tutte le scuole di danza e a proposito della Dance Performance School vorremmo raccontarvi ovviamente un po' di storia di questa scuola perché è stata fondata da Donatella Cantagallo, Gabriele Palloni e Enzo Pardeo, tre ballerini professionisti, sono nati, hanno organizzato con il Jazz Dance Ballet poi in seguito ovviamente a loro esperienze professionali fin dagli anni 90, dai fondatori grazie al cammino con gli ingegni brillanti che hanno saputo mettere insieme ovviamente all'interno della scuola stessa oggi siamo arrivati proprio al centro delle arti dello spettacolo così come è intesa la scuola stessa con le discipline del canto, della musica, della recitazione e del musical quindi sicuramente scuola non solo di danza ma di performance proprio a tutto tondo visto che avete tirato il fiato abbastanza, non crediate di essere tralasciati là in disparte si parla ancora di tango, gran finale per gli amici del Dance Performance School Patricio Müller che poi è un nome tipico argentino, si sente proprio anche a sentirla parlare vi assicuro, tedesca se non sbaglio la nostra Patricio, Riccardo Penna molto più indigeno in quanto italiano, si va vi dicevo ancora con un tango non mi importa su amor, questo è quello che ci racconteranno Patricio e Riccardo grazie a tutti 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 grazie a tutti